Strano tentativo di furto alla Canepa, azienda tessile di Sanfermo della battaglia. Un blitz che sembrerebbe finalizzato allo spionaggio industriale. I piani dei malviventi sono stati rovinati dalla guardia privata. L'episodio, riferito dalla stessa azienda, è accaduto nella notte. Le quattro persone entrate nella sede di Sanfermo sono state messe in fuga dall'arrivo di un addetto alla vigilanza. Secondo i primi accertamenti, i malviventi avrebbero prima cercato di accedere da diversi ingressi per poi riuscire a infilarsi nella zona uffici, più precisamente, e qui nasce il sospetto di un tentativo di spionaggio industriale, nella zona dove è conservata la documentazione sulla proprietà intellettuale e dove vengono sviluppate alcune novità industriali coperte da brevetti. Gli addetti alla sicurezza hanno immediatamente avvisato le forze dell'ordine e sul posto è arrivato anche un dirigente, Alfonso Saibene Canepa, che ha rilevato come l'azione dei malviventi si sia concentrata in alcuni uffici e non, come si pensava all'inizio, sui campionari da inviare a Milano Unica. Difficile al momento capire con certezza lo scopo di questa strana intrusione, dice Alfonso Saibene Canepa, i ladri non erano organizzati per trafugare la merce. L'azione è stata circoscritta a pochi uffici dove conserviamo importanti documentazioni di lavoro, rafforzeremo ulteriormente la sicurezza. Interrotti dagli addetti alla vigilanza, i ladri non avrebbero rubato niente dall'azienda. Grazie.